Ciao a tutti ragazzi, faccio un nuovo video Allora, questo sarà un video molto 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 corto dove vi farò vedere un paio di cose che ho comprato oggi a Torino al... non so dove... al centro commerciale comunque Alla... vabbè, è qui dentro le cose delle trupe perché ho comprato anche le scarpe vi faccio vedere poi dopo all'ultimo però poi la prima cosa ho comprato anche da Declaton e ho comprato delle cose per l'allenamento quindi ho comprato dei pantaloncini semplicissimi sono molto molto leggeri infatti sarà quasi come la naveglia addosso e sarà molto molto figo e molto leggero e vabbè, io ho preso una S vederlo così sembra enorme poi quando me lo sono messo così ai fianchi ho detto no no, va bene va bene l'unica cosa che ho paura è che sia un po' troppo lungo e che vada un po' troppo in giù perché essendo che faccio ginnastica artistica non ciò vuole tenerli tanto lunghi poi ho preso anche dei polsini che sono da mettere sotto i paracalli che sono semplici e bianchi della Nike lunghi e boh, che li ho presi nel reparto da tennis però perché non li trovavo in giro e boh, sono proprio bellissimi e poi boh, infine ci sono le scarpe che ho preso le guaracce nere io volevo prendere quelle nere con la sola bianca ed erano tutto un altro modello solo che alla fine il tipo ha controllato non l'aveva né quelle lì che in teoria erano una versione da donna però alla fine non è che si vede molto e neanche le total black quindi mi ha dato queste che sono un po' più estive cioè sono più leggere però sono molto molto morbide e sono bellissime e poi la cosa bellissima è che qua sono molto elastiche non avevo mai preso un po' di scarpe così e appunto le ho presi nere sono stra felice e quindi boh, questo era tutto la gente che dovrò salutare saluterò nel prossimo video che comunque registrerò già oggi solo che registrerò un po' dopo ho mangiato così dove vi parlerò di sabato che andrò a Genova al compleanno di Laria ma vi farò sapere di più nel prossimo video quindi spero per ora è tutto e ci vediamo poi ciao